Buonasera, sono Giacomo Di Feo della Casa Vinicola Zonin, siamo qui oggi ospiti dell'Officina del Vino per presentarvi la nostra tenuta del Bosco, che è una tenuta dell'Oltre Poppavese specializzata nella produzione di pinot nero di eccellenza. Oggi presenteremo qui tre pinot nero metodo classico, oltre Poppavese, un grosè, che è il rosè del pinot nero e un nature, quindi senza liquido, quindi soltanto vino, e un pinot nero in rosso, una specialità che riserveremo soltanto per voi. Siamo molto contenti di questa opportunità di poter presentare il nostro neodo classico in questa sede di grande qualità e importanza perché teniamo molto a far instillare o comunicare alla gente quella che è la differenza tra un prodotto fatto da pinot nero, quindi da uva rossa, anziché un prodotto franciacolpino. Quindi andremo a spiegare, a degustare vini che hanno grande struttura, grande acidità e che rideriva propriamente dalla presenza di uva rossa vinificata in bianco. Vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro buon viaggio nei nostri pinot nero.